Undicesima intensa udienza del processo Green Genetics Greenvest a testimoniare in aula nella sala degli affreschi del Tribunale di Perugia davanti alla Corte d'Assise preseduta dal giudice Calla Mere Gian Gamboni come parti civili i familiari di Alessio Cacciapuoti rimasto gravemente ferito dall'esplosione dell'azienda di Cannabis Light che causò il 7 maggio 2021 il decesso di Samuel Cuffaro e di Elisabetta D'Innocenti. Alessio, lavoratore della Green Genetics all'epoca dell'evento minorenne, fu trasportato al centro grandi ustionati di Cesena e rimase per giorni in condizioni critiche con ustioni su oltre il 70% del corpo subendo l'amputazione di una gamba. Indubbiamente quella di oggi è una giornata molto dolorosa soprattutto per i familiari di Alessio Cacciapuoti che sono chiaramente chiamati a rivivere il calvario che hanno già vissuto appunto nel maggio del 2021 e è una giornata particolare appunto perché gli si chiede di riferire quali sono stati i danni subiti dal figlio non solo a livello fisico, medico, terapeutico ma anche chiaramente dal punto di vista psicologico. A livello processuale questo è necessario perché è utile alla ricostruzione appunto delle vicende e sostanzialmente a portare avanti anche le richieste risarcitorie da parte delle parti civili costituite. Proprio l'avvocato Pieri assieme al PM Giampolo Mocetti che sostituisce Gemma Miliani temporaneamente impossibilitata a seguire il processo ha posto domande ai vari test a partire dalla mamma di Alessio Patrizia Manuali che in lacrime ha dichiarato di aver più volte avuto pensieri estremi dopo l'esplosione. Quindi il primario fisiatra dottor Amedeo Amoresano del centro protesi INAIL di Budrio che ha ricostruito il contesto medico di Alessio dal primo ricovero d'urgenza fino ad oggi per passare al padre Biagio. Toccanti anche le ricostruzioni della zia di Alessio Nunzia Cacciapuoti e dello zio Matteo Manuali che ha anche ricordato le attività e passioni di Alessio come partecipare attivamente alla vita ceraiola oppure andare a vedere gare automobilistiche, attività e passioni che oggi come rimarcati in aula creano disagio al ragazzo. Infine l'ingegner Luca Tasso specializzato nella sicurezza sul lavoro e presente al sopralluogo post esplosione. Tasso ha affermato che Alessio essendo in fascia minorile non poteva stare in attività che espongono un rischio per la persona. Sentite anche la madre e il medico psicologo di Kevin Dormicchi, l'altro lavoratore rimasto ferito dall'esplosione e che soprattutto dal punto di vista psicologico porta appresso i segni di quel 7 maggio 2021. Prossimo udienza giovedì 13 giugno quando saranno sentiti i testimoni di parte civile legati a Samuel Cuffaro per un processo che si avvicina sempre più verso il primo grado di giudizio per i cinque imputati, i quattro soci delle due aziende e il proprietario dell'immobile esploso. Sicuramente è ancora presto per fare delle valutazioni ma è altrettanto vero che l'istruttoria ha fatto emergere degli elementi importanti a favore della ricostruzione dell'accusa. Sia io come gli altri colleghi che difendiamo le parti civili in questo processo abbiamo una grandissima fiducia nei confronti della procura e chiaramente anche della giustizia in generale. Quindi siamo sostanzialmente speranzosi che questo processo porti effettivamente a quella che è una giustizia reale e a far assumere le responsabilità di quello che è accaduto a chi di queste responsabilità prima o poi ne dovrà rispondere.